Una giornata di festa e di raccolta vissuta nel fine settimana dai volontari del Banco Alimentare di tutta la Sicilia, tanti in prima linea per donare alle famiglie che vivono la fragilità della vita, come l'Arcivescovo della Diocesi di Catania, Monsignor Luigi Renna. Nella nostra vita non dobbiamo mai distogliere lo sguardo da chi ha meno di noi, da chi sta soffrendo più di noi. Il libro di Tobia, dal quale tratta questa parola che il Papa ci dona, non distogliere lo sguardo dal povero, ci dice che queste sono le parole che un padre affida come testamento a suo figlio. La giornata nazionale della colletta alimentare da 27 anni ricorda la necessità di contrastare la povertà alimentare con un piccolo gesto che può davvero aiutare tantissime famiglie ad arrivare a fine mese. Nei carrelli olio, verdure, legumi in scatola, passata di pomodoro, tonno, carne in scatola e alimenti per l'infanzia. Anche la dirigenza di Farmitalia Saturnia ha partecipato alla colletta, invitando i clienti dei supermercati a includere nella loro spesa un contributo anche piccolo. In questo momento Banca Alimentare in Sicilia aiuta 280.000 siciliani in condizioni di povertà. La situazione della povertà in Sicilia, come in tutta Italia, sta peggiorando. La colletta alimentare organizzata dal Banca Alimentare è l'evento di solidarietà più partecipato del nostro paese. In tutta Italia sono 145.000 volontari impegnati in tutti i supermercati delle catene della GDO, 11.000 in Sicilia e più di 2.000 nella nostra città. Noi come Saturnia siamo orgogliosi non soltanto del percorso che stiamo sviluppando in questa stagione con il Banca Alimentare, ma anche di essere presenti qui come volontari. Grazie a tutti.